In principio era il 14 giugno, poi il 12 e infine il 13. L'odissea della sperimentazione gomma rotaia per i pendolari ed utenti Cotral che da Rieti vanno a Roma sembra non avere una fine. Infatti la società aveva fissato come termine ultimo per la sperimentazione il 14 giugno, ma sul sito sembra non essere così. Infatti sulla pagina web dei trasporti laziali è scritto a chiare lettere che il servizio sperimentale terminerà il 14 giugno, ma se si aprono ulteriori pagina si spiega che la sperimentazione terminerà il 12. Quale campana ascoltare? I pendolari e i reatini rimangono ancora una volta in balia degli eventi senza avere come di consueto certezze e servizi efficienti e la polemica monto ulteriormente.